Non sono poi tanto conformisti i ragazzi jugoslavi, almeno per quanto riguarda i motivi musicali. La banda degli imberbi ha vinto di recente il festival musicale riservato agli studenti. Sono ragazzi che provengono da Podgorak, un soborgo di Zayeka, e hanno ottenuto un enorme successo in tutti i paesi in cui si sono esibiti grazie al Batna Twist, una riuscita parodia della famosa danza folkloristica La Vecchia Vlaina. Gli strumenti sono quelli tradizionali, i costumi sono quelli del bel tempo che fu, e la musica è uguale a quella di una volta. Forse perché nei paesi comunisti, anche se cambiano i suonatori, la musica è sempre la stessa.